Se non sei disposto a sacrificare l'usuale, dovrai accontentarti dell'ordinario. L'educazione formale ti darà da vivere, l'autoapprendimento ti darà una fortuna. Dobbiamo tutti patire una di queste due cose, il dolore dell'autodisciplina o il dolore del rimpianto e della delusione. Ciò che sei è una media delle cinque persone con cui passi la maggior parte del tempo. Se vuoi veramente fare qualcosa, troverai un modo. Se non lo vuoi fare, troverai una scusa. Grazie a tutti.